Musica Renna Sella lo Scarabèo, una casa editrice che apre le frontiere anche al Fantasy, vendutissima anche i tarocchi. Quest'anno avete fatto i tarocchi con David Bowie? Assolutamente, una grande novità di quest'anno, è stata lanciata il 24 ottobre, quindi è davvero una cosa recentissima. Noi siamo orgogliosissimi di questo progetto perché è il coronamento del sogno e una vita dell'autore, che è Davide De Angelis, che è stato per oltre 30 anni il copertinista degli album di David Bowie. Davide e Bowie hanno una storia di amicizia e di collaborazione sul lavoro davvero lunghissima, che parte appunto all'inizio degli anni 70, addirittura Davide da piccino ha avuto la fortuna di incrociare Bowie nel ristorante del papà, che gestiva un piccolissimo ristorante italiano nei pressi di Londra, dove Bowie stava registrando il suo album e a Davide Piccino Bowie disse quando tu sarai grande sicuramente collaboreremo perché i tuoi disegni mi piacciono da impazzire. E così è stato perché oltre 20 anni dopo hanno iniziato a pensare a un mazzo di tarocchi che però poi per tanti motivi, legati anche e soprattutto al fatto che Bowie aveva 1700 progetti da seguire, è rimasto un po' in cantina. Quando Bowie è venuto a mancare, Davide ha avuto una serie di sogni che gli hanno indicato che era il suo destino portare a completamento questo grande progetto e così è stato, ci ha contattato, sapendo che noi siamo una casa editrice di tarocchi che ha oltre 30 anni di esperienza in tema e abbiamo iniziato insieme questo meraviglioso viaggio che si è concluso con lo Starman Tarot e che sta avendo davvero molto successo. Grazie a tutti.